Oggi dalle 8 alle 20 e poi ancora domani dalle 8 alle 12 e 30 esperti di tutto il mondo saranno a confronto sulla salute mentale presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Per lasciare spazio all'evento sono previsti divieti di sosta temporanei nella zona, possibili anche temporanee chiusure al traffico. Oggi pomeriggio dalle 14 e 30 manifestazione di protesta contro il caro Energia in Piazza Santi Apostoli. All'iniziativa organizzata dall'Associazione IoApro è prevista la partecipazione di circa 200 persone con possibili ralentamenti per la viabilità e il trasporto pubblico del centro. All'iniziativa organizzata dall'Associazione IoApro è prevista per la viabilità e il trasporto pubblico del centro. All'iniziativa organizzata dall'Associazione IoApro è prevista per la viabilità e il trasporto pubblico del centro.